Come si muove in Italia e in Europa? Il rapporto con Podemos, il rapporto con Barcellona, il rapporto con le comunità nazionali e internazionali che si fondono sulla partecipazione dal basso, si consolideranno nei prossimi anni, la rete delle città, la rete delle comunità, la rete delle associazioni, dei movimenti, quindi su questo rafforzeremo sicuramente l'azione politica e voglio specificare che accanto all'azione politica c'è l'azione amministrativa. La dico un po' con uno slogan, ho detto più volte, squadra che vince non si cambia, ma ovviamente squadra che non migliora si cambia. Per dirla in breve, noi abbiamo raggiunto un risultato straordinario a Napoli in questi cinque anni, nessuno si aspettava che potessimo arrivare ad essere la prima città per turismo e cultura. Esempio di moralità pubblica, esempio di riscatto morale, esempio di partecipazione popolare così diffusa, ma che nessuno si adagi, che non è che Napoli è diventata il paradiso terrestre. A Napoli i problemi sono tanti, c'è ancora tanto inferno e tanto purgatorio, quindi da adesso si deve solamente migliorare. Luigi De Magistris non si accontenta della stagnazione, del tanto abbiamo vinto, andiamo avanti così, oppure va bene mantenere questo livello? Assolutamente no. Se cinque anni fa, faccio un esempio, il primo obiettivo fu togliere i rifiuti da Napoli e lo raggiungemmo, adesso bisogna lavorare perché Napoli non abbia più erbacce, non abbia più di serbo, non abbia più le carte sporche, non abbia più ancora i pezzi di non cura che ci sono nella nostra città. L'ho detto con un esempio e potrei dire altre cose, quindi mi aspetto il massimo da tutti perché sui fatti che io giudicherò le persone che si metteranno accanto a me a lavorare. Io sono sempre lo stesso e andiamo avanti perché siamo in tanti adesso, in tanti che vogliono lottare per una Napoli sempre più bella, sempre più in vetta, sempre più in alto.